Arrivano gli Ascolani decisi a far punti, più riposati dei crotonesi, non avendo giocato l'infrasettimanale, e consapevoli del fatto che la loro posizione di classifica sarebbe stata completamente diversa se per i noti problemi societari la Lega di Serie B non fosse stata costretta ad infliggergli sei punti di penalizzazione. Ma starà ai Rosso e Blu renderli inoffensivi, sfruttare questa giornata a loro favore, per i diversi incroci, quasi spareggio, tra Triestina e Piacenza, Sassuolo e Cittadella e Frosinoni e Albinoleffe. Oltre ad avere l'occasione di rivedere all'uscita l'ex di turno Mendicino, ci sarà la possibilità di continuare la striscia positiva. A Varese era importante non perdere l'essenziale e continuare a muovere la classifica. È un punto tenuto su un campo difficile, anche se noi volevamo vincere fino alla fine, ma c'è anche la forza dell'avversario, non siamo riusciti a fare questo gol. Abbiamo avuto diverse ripartenze nel secondo tempo, che loro hanno avuto un calo, potevamo sfruttarle meglio, però per un motivo o per l'altro, un po' per demerito nostro, un po' per bravura loro, non siamo riusciti a fare questo gol, che era molto importante. Era da molto che il Crotone non conquistava così tanti punti. Sì, l'importante, l'ho detto, era invertire un po' la tendenza, però, come dici tu, è un'analisi giusta, perché ancora non abbiamo fatto niente, perché nessuno dietro molla, è tutto molto difficile, il campionato è difficile, l'importante è sapere che il Crotone c'è. Sarà dura per noi, ma è dura anche per gli altri. Bisogna stare attenti a questo Ascoli, che occupa una posizione di classifica non veritiera. Calcola sei punti di penalizzazione. L'Ascoli ha fatto 34 punti come noi, con una partita in meno. È una partita non difficile di più, è una partita pericolossissima. Già l'ho detto ai miei giocatori, questo non significa che noi abbiamo paura dell'Ascoli, però abbiamo rispetto, perché l'Ascoli in questo momento è una squadra che sta in buonissima condizione. Con l'avvento di Castori ha fatto un miracolo, perché sembravano quasi spacciati, invece, nonostante la penalizzazione, hanno continuato a vincere e hanno tutti i requisiti per raggiungere la salvezza. Quindi è una partita molto, molto, molto delicata, come lo è stata con la Triestina, come lo saranno altri. Ma questa è una partita, Castori lo associo un po' a Sannino, caricano le loro squadre, sono squadre cattive, che fanno agonismo, fanno corsa e hanno anche buoni valori tecnici. Quindi è una partita molto, molto, molto pericolosa. Diversi sono un po' più riposati, non dimenticando che l'Ascoli non ha giocato. Sì, c'è anche questo problema, però, insomma, è successo questo e non hanno giocato, però per quello che ci riguarda, per quello che mi riguarda, devo cercare innanzitutto di mettere in campo una squadra che sta bene sulle gambe. Complimenti per l'ingresso di Calilla. Grazie. Complimenti a lui, perché, capite, gli allenatori noi li mettiamo, poi a volte danno e quindi viene dato merito all'allenatore, a volte non danno e di merito all'allenatore. Il merito è suo perché è entrato subito in partita, pur non avendo fatto riscaldamento, e questo per noi è stato molto importante. Il Crotone c'è, il Crotone ha ricominciato a far punti ed è importante continuare a far bottino pieno questo pomeriggio. Ecco il prossimo turno. Crotone Ascoli, Empoli Modena, Frosinone Albino Leffe, Livorno Varese, Padova Siena, Pescara Regina, Porto Gruaro Grosseto, Sassuolo Cittadella, Triestina Piacenza, Vicenza Torino e Atalanta Novara si giocano lunedì sera, il Vicenza gioca alle 19, l'Atalanta alle 20.45.